eccoci ai microfoni di green pizza questo episodio appena sfornato è dedicato al verde urbano la città ideale dovrebbe esserne piena ne parliamo con la nostra esperta martina borghi e chiederemo qualche dritta anche ad un ospite che di riforestazione urbana se ne intende davvero davvero parecchio l'architetto e urbanista stefano boeri io sono carlotta mi occupo di contenuti digitali per greenpeace italia e in questo e nei prossimi episodi vi aggiornerò su tutto quello che c'è da sapere su ambiente clima transizione ecologica e molto altro che siate con le cuffie al parco in autobus che siate a casa alle prese con un esame o con un buon piatto da preparare restate all'ascolto bentrovate bentrovati vi ricordate nell'ultimo episodio abbiamo cominciato il nostro viaggio a futuro poli la città del futuro parlando di trasporti e di come potrebbero cambiare oggi lasciamo da parte le bici monopattini e camminiamo a piedi vi portiamo fra giardini parchi e orti urbani per capire che ruolo hanno e che avranno nelle nostre città nei prossimi anni lo facciamo come sempre con due ospiti vi presento subito martina borghi della campagna foresta di greenpeace italia ciao martina grazie di averci raggiunto ciao a tutte ciao a tutti sono martina allora martina con tutti i nostri co conduttori anche con i nostri ospiti partiamo subito con una domanda a bruciapelo allora ecco la tua tua il pollice verde oppure no più o meno diciamo me la cavo sono certi tipi di piante un po più facili che mi riescono meglio e altri meno bene bene capito allora stavolta partiamo con te da una considerazione un po più ampia quando parliamo di cambiamenti climatici la prima cosa che ci viene in mente non è una città ammettiamolo pensiamo piuttosto ad un ecosistema in pericolo a una foresta un immenso ghiacciaio invece una buona parte della sfida alla crisi climatica oggi si è spostata nelle città ma che cosa c'entrano le strade che percorriamo ogni giorno le piazze i nostri balconi che sono sempre così apparentemente innocui con le sorti del pianeta puoi spiegarcelo un po meglio sì carlotta allora diciamo che innanzitutto dobbiamo ricordarci che più della metà della popolazione mondiale vive nelle città e questo numero è destinato ad aumentare entro il 2050 quindi non troppo è là nel tempo e nelle città producono il 70 per cento delle emissioni climatiche globali quindi il ruolo delle città certamente è importante poi è vero noi pensiamo quando pensiamo ai cambiamenti climatici pensiamo all'aumento di incendi indomabili o l'aumento degli uragani alla siccità alle inondazioni però iniziano a vedersi anche degli effetti dei cambiamenti climatici nei problemi che rendono invivibili le nostre città per esempio l'aria inquinata la mancanza di aree verdi la mancanza di aree pedonali l'insufficienza del trasporto pubblico l'insufficienza di piste ciclabili e lo spera anche per esempio lo scarso accesso a del cibo o a dei prodotti di qualità e prodotti localmente ci sono stati vari studi sul futuro climatico delle città europee per esempio uno studio che ha preso in considerazione 571 città europee ha stimato che nella maggior parte di queste città ci sarà un aumento considerevole delle temperature massime durante le ondate di calore per esempio Roma avrà un aumento di circa 10 gradi delle temperature durante le ondate di calore anche la durata di queste ondate di calore sarà più consistente per esempio nella regione del Mediterraneo si è passato dal 1960 quando c'erano circa tre giorni in estate particolarmente caldi ad oggi al 2050 quando si prevede che ci saranno addirittura 13 giorni estremamente caldi in estate durante le ondate di calore quindi questo tra l'altro va considerato insieme a tutto quello che sta accadendo a causa del covid 19 gli impatti di questa pandemia stanno modificando in tutto il mondo il modo in cui noi vediamo le città non sono più solamente dei centri economici politici non possono avere più solo quella funzione devono anche essere luoghi in cui delle sfide tra l'urbanizzazione e la sostenibilità si incontrano e devono coesistere in modo da dar vita a città più vivibili e sostenibili e quindi più sicure per le persone grazie martina tutto chiaro diciamo anche che da quando la pandemia è entrata nelle nostre vite si parla molto di south working di fuga dalle città poco vivibili e anche della riscoperta dei piccoli borghi ma insomma non siamo proprio nel film cambia la tua vita con un click e quindi chi per scelta chi per necessità di fatto molte e molti di noi sono ancora alle prese con i nostri impegni in città e in più c'è anche la pandemia abbiamo sempre più bisogno di spazi aperti di luoghi sicuri e sani in cui ristabilire un contatto con la natura praticare sport trovare del tempo libero per noi stessi secondo te avremo ancora questa esigenza in futuro allora come abbiamo detto prima più della metà della popolazione mondiale quindi oltre 4 miliardi di persone vive nelle città quindi nonostante qualcuno si stia spostando il numero di persone che vive anche costretta a vivere in città è molto alto quindi cosa sarà necessario fare investire in aree verdi pubbliche che abbiano un accesso equo a tutti e tutte perché investire in questo significa proprio investire nella salute pubblica nella salute sociale significa riequilibrare il rapporto tra persone e natura rendere le città più resiliente alla crisi climatica e quindi proteggerci anche da future pandemie. Greenpeace ha creato la green city map grazie ai nostri volontari abbiamo creato questa guida navigabile da pc da smartphone dove si possono trovare aree verdi servizi di bike sharing punti vendita sfusi usato quindi vi consiglio di dare un'occhiata perché potreste trovare la vostra città e qualche consiglio è già utile. Abbiamo anche pubblicato l'anno scorso un rapporto si chiama greening the cities in cui parliamo dei proprio dei benesse degli impatti sul benessere psicofisico e sulla qualità della vita del verde in città. Vi consiglio di leggerlo perché ci sono dei benefici molto interessanti che vanno sia a quelli per la salute per il corpo sia al miglioramento della salute mentale cioè davvero il verde in città fa più di quanto ci potessimo aspettare. Negli ultimi quindici anni la disponibilità e l'accessibilità di sparsi verdi urbani nelle grandi città del mondo è andato leggermente in aumento ma è ancora molto insufficiente rispetto a quello che l'organizzazione mondiale della salute pensa che dovrebbe essere lo standard minimo lo standard minimo dovrebbe essere nove metri quadri di aree verdi per ogni persona che vive in città. L'ideale sarebbe cinquanta metri quadri più grande dell'appartamento dove vivo ora quindi è ancora un traguardo difficile da raggiungere ma al quale dobbiamo puntare perché aumentare le aree verdi e l'accessibilità equa alle aree verdi alle aree pubbliche significa prendersi cura della salute dei cittadini e delle cittadine e garantire un tessuto sociale sano attivo quindi più spazi pubblici vuol dire combattere le disuguaglianze promuovere l'inclusione delle comunità la partecipazione pubblica e rendere le città più sicure più resilienti e più insomma allerta per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici. Grazie mille Martina a volte pensiamo sia solo un effetto placebo il sentirsi meglio all'ora aperta e invece lo dice addirittura l'organizzazione mondiale della sanità. Se è vero che lo stress e l'ansia per i cambiamenti climatici potrebbero aumentare nella nostra società in futuro possiamo dire che è rassicurante pensare che avere a disposizione delle aree verdi accessibili può realmente contribuire a migliorare la nostra vita. Naturalmente se vogliamo affrontare il futuro con città più verdi dobbiamo lavorarci da subito e per questo abbiamo invitato qui a Green Pizza un famoso architetto italiano che ha le idee molto chiare su quali siano i prossimi passi da fare. Io ti saluto Martina e grazie per essere stata con noi. Ciao grazie a tutte grazie a tutti. Diamo il benvenuto all'architetto urbanista più green d'Italia Stefano Boeri. Architetto le diamo il benvenuto non solo ai microfoni di Green Pizza ma anche nel nostro tour di Futuropoli la città del futuro. Buongiorno a tutti grazie. Architetto ci tolga subito una curiosità ma quante piante ha nel suo appartamento? Ne ho tante ne ho tante perché sia all'interno che all'esterno devo dire ho un terrazzo piccolo però pieno di piante ma ho molte piante anche dentro nelle stanze quindi sono abbastanza da questo punto di vista popolato dal verde anche nelle mie abitazioni privata. Grazie architetto. Lei è stato uno dei primi a ripensare il ruolo del verde in città. Come sa oggi questo colore va molto di moda tutto deve almeno sembrare green ma i palazzi e veali che lei ha in mente per le nostre città sono effettivamente proprio di questo colore. Nel suo recente libro Urbania spiega perché serve una città foresta per affrontare le sfide del futuro. Secondo lei possiamo dire che Futuropoli sarà tutto roso e fiori? Rose e fiori, piante, arbusti, rampicanti e alberi. Ci serve questo investimento sul verde perché ci aiuta a respirare meglio, assorbire le polveri sottili prodotte soprattutto dal traffico e dal riscaldamento con tecnologie antiquate. Ci serve questo verde diffuso perché assorbe la CO2 che ha le origini del cambiamento climatico e produce ossigeno. Ci serve questo numero altissimo di alberi e piante e tetti verdi e parchi e giardini perché riduce il calore. Questa è una delle grandi sfide dei prossimi anni. Le città si stanno surriscaldando. Da questo punto di vista città tutte minerali, tutte di vetro, acciaio, cemento e asfalto aumentano potenzialmente questo riscaldamento fino a livelli più ormai insopportabili e il verde è fondamentale. E poi ci serve anche perché il verde è un elemento di condivisione, di come dire un principio attorno a cui si creano delle comunità ed è anche uno straordinario modo per ridurre i costi sanitari perché migliora la qualità della nostra salute. Non dimentichiamoci che la pandemia si è purtroppo manifestata con più forza nelle zone dove una cattiva stato dell'aria, un inquinamento dell'aria ha creato delle condizioni di debolezza polmonare che hanno facilitato la diffusione del contagio. Allora il verde è fondamentale anche da questo punto di vista. Quindi è una presenza che dà qualità, prima di tutto, non l'ho detto ma è evidente, qualità allo spazio, ai paesaggi, ai panorami, alla nostra vita quotidiana ma è anche una presenza necessaria. Grazie architetto, tutto molto chiaro. Sa, io ho molti amici e molte amiche che sognano di abitare nel suo bosco verticale anche per fare colazione su un meraviglioso balcone botanico, però non è che sia proprio alla portata di tutti. Far crescere giardini verticali anche in zone meno blasonate, fuori dalle zate a TL oppure in periferia, in posti che siano insomma accessibili a più persone, la ritiene una possibilità concreta per il futuro? Un bosco sulla Tiburtina, che è una zona di Roma molto congestionata, per dire lo farebbe? Di corsa domani, lo farei domani e devo dire che in questi anni dopo aver costruito il primo bosco verticale, che è stato un grande progetto con un grande sforzo di investimento e anche di ricerca, perché abbiamo dovuto studiare cose che non si studiano di solito nel nostro mestiere, tipo se un albero resiste a un tifone, quindi siamo andati a Miami a testare nella Galleria dell'Evento i balconi del nostro progetto. Quindi il primo bosco verticale che abbiamo analizzato a Milano è stato destinato a famiglie e abbienti, anche se all'inizio i prezzi non erano particolarmente alti, adesso sono molto cresciuti, quasi raddoppiati. Ma noi abbiamo ostinatamente fatto di tutto per arrivare a dimostrare che si può costruire boschi verticali, cioè edifici in altezza con albire e piante, migliaia come nel caso del bosco sono 21.000, a costi accessibili. E ci siamo riusciti perché in Olanda, da Eindhoven, in una zona della periferia di Eindhoven, dove c'era una quartiera industriale della Philips, abbiamo realizzato qualche mese fa un bosco verticale in social housing, cioè con costi accessibili a tutti in affitto e abitato oggi da decine e decine di studenti e giovanissimi ricercatori. E devo dire che questa cosa ci riempie di gioia e anche un po' di orgoglio, perché era proprio quello che volevamo dimostrare. Abbiamo inaugurato due settimane fa in Cina altre due torri simili, come caratteristiche, come accessibilità, per dire che in tutto il mondo noi siamo in grado di dimostrare che si può fare quel tipo di architettura con un verde che non è solo l'ornamento, ma che è carattere stesso dell'architettura ovunque per tutti. Grazie architetto. Questo devo dire che ci rincuora molto. Speriamo che il futuro delle nostre città sia davvero così rosio e soprattutto così verde. Prima di salutarla, un'ultimissima curiosità ce la deve togliere. Per il Bosco di Milano si è ispirato ad una canzone di Celentano e a un romanzo di Calvino. Per i boschi in periferia ha già scelto dei riferimenti? No, 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 no. Queste cose non si scelgono ma arrivano. Pensando anche alla vostra ispirazione sulla Green Pizza, mi viene in mente che ci sono mille possibili ispirazioni per chi fa il mio mestiere. A volte sono ispirazioni che nascono dalla musica, a volte sono ispirazioni che nascono dalla lettura di un libro o delle memorie o degli incontri o delle relazioni. È difficile dirlo. Quello che penso più in generale è che dobbiamo fare un grande sforzo per far sì che anche nei quartieri esterni e nelle periferie scambi il nostro modo di pensare alla città. Quindi il verde è un elemento fondamentale ma deve cambiare anche qualcos'altro. Deve cambiare anche per esempio la produzione di energia che deve essere rinnovabile e non più basata sui consumi attuali e con i tassi di inquinamento attuali. E oggi è possibile. È possibile che quel sogno che avevamo un po' di anni fa che ogni casa diventi una piccola centrale di produzione di energia pulita che a volte distribuisce anche nel suo intorno. Oggi grazie all'idrogeno è possibile. Quindi il verde, l'energia e la mobilità. L'altra grande sfida è la mobilità. Ridurre il numero di macchine, aumentare se possibile i trasporti pubblici e immaginare una città che permette di avere tutti i servizi al cittadino più vicini al luogo di residenza. Questo è un modo per migliorare la vita di tutta la città. Centro, quartieri esterni, periferie e anche centri urbani di cintura. Tutto molto chiaro, architetto. Speriamo di rivederci presto per un nuovo tour di Futuropoli. Stavolta speriamo con una passeggiata reale. La ringraziamo moltissimo di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie mille. A questo punto dell'episodio noi andiamo a controllare come stanno le piante che abbiamo trascurato per registrare questo podcast. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana con nuovi ospiti e nuovi temi. Parleremo di allevamenti intensivi, salute e pandemie, per capire quali alternative e soluzioni abbiamo per un modello agroalimentare più sano. Da Futuropoli intanto alla nostra città del futuro è tutto. Vi aspettiamo qui con Green Pizza, le nostre notizie appena sfornate sul pianeta. Green Pizza, il podcast di Greenpeace Italia. In questo episodio regia e supervisione di Carlotta Giovannucci. Testi di Gaia Maione. Missaggio audio di Alessandro Bianchi.